Ciao a tutti, oggi è il primo maggio, tantissimi auguri di buona festa del lavoro e dei lavoratori soprattutto a tutti. Oggi è una giornata molto molto importante che fa riflettere, fa riflettere perché quest'anno il primo maggio si trova ancora una volta con il covid, con la pandemia in atto e già si sta delineando un quadro, uno scenario economico e mondiale che è quello della perdita del lavoro di migliaia di persone a causa covid ovviamente perché poi è molto comprensibile che se un'azienda va in crisi è molto facile che perlomeno licenzi dei lavoratori ma proprio perché se vendi di meno e produci di meno è normale che hai dei lavoratori in eccesso che tenderai a sacrificare o a licenziare perlomeno per un periodo temporaneo finché poi non ritornerai al livello ottimale di produzione e di vendita. Quindi è un po' questo lo scenario economico che si cela dietro tutto questo, è un principio economico con una legge imprenditoriale ben definita, poi etica o meno è una decisione personale se decidere che questa diciamo così piccola legge sia etica o meno. Comunque purtroppo si capita in questo scenario, purtroppo la pandemia è un fattore esterno ovvero nessuno o pochissimi se la sarebbero aspettati e ha delle conseguenze incredibili sia sociali che economiche e quindi oggi che il primo maggio voglia essere diciamo così un primo maggio di rinascita perché poi fortunatamente si sta vaccinando, si fanno le vaccinazioni giornaliere e quindi si potrà speriamo il primo possibile uscire dal Covid 2019 e quindi dalla pandemia e speriamo insomma che assieme al fatto che l'Italia esca dal Covid ci sia una ripartezza economica da parte dell'Italia ma che comunque in una certa misura ci sarà perché sicuramente si ritornerà in una certa misura alla normalità e questo fa sicco ovviamente più getta e gira più soldi si spendono più i consumi aumentano e più cresce l'economia quindi potrebbe essere molto 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 facile dipende ecco da quanto tempo ci si mette a ritornare alla normalità uscire a spendere eccetera quindi insomma vedremo vedremo come andrà io mi auguro insomma per tutti che si ritorni a un'ottima condizione economica e che comunque ci si lascia alle spalle questo Covid e soprattutto che finisca presto l'emergenza